La crisi economica sta schiacciando ogni comparto e anche la zootecnica nel nostro territorio non fa eccezione. In queste ore tiene banco infatti tra i produttori del settore la questione dei costi e dell'energia elettrica che incide parecchio sui profitti. E si parla oggi di una protesta forte se le presenta la regione Crocetta non assume iniziative mirate a dare una boccata d'ossigione al comparto. Oltre ai costi e all'energia elettrica si chiede anche il rinnovo del prezzo regionale del latte e una politica che possa finalmente sostenere uno dei settori trainanti dell'economia eblea. Per i vertici del Consorzio Eccellenze Siciliane si è in balia oggi di un sistema assurdo ma anche di una gestione politica e sindacale fallimentare. Infatti le aziende continuano a morire tra l'indifferenza generale e col prezzo delle materie prime come il Mangima ad esempio che ha superato il prezzo del latte. Allo stesso tempo gli allevatori blei hanno anche raccolto delle firme dove chiedono con urgenza un incontro proprio con Crocetta sul tappeto quella che viene definita la vertenza agricoltura. C'è in ogni caso fiducia tra gli allevatori ragusani che lo stesso governatore possa ascoltare le stanze di una categoria di lavoratori come loro si definiscono ormai sul lastrico quindi massima fiducia verso misure immediate che diano finalmente sollievo all'economia agricola e non solo.